Ciao ragazzi e benvenuti al video del 5 dicembre. Vogliamo vedere che cosa c'è oggi? Abbiamo una storia, i dolci di Natale sono scomparsi, di Giuliano Ferri. Nella pasticceria di San Vitale c'era un grande affare. Da diversi giorni il vecchio forno non aveva mai smesso di funzionare perché Natale era ormai vicino e come ogni anno non sarebbe mancato in nessuna casa del paese il dolce tradizionale. Luca aiutava suo padre il pasticcere decorando ogni dolce con le somatissime ciliegie. Finalmente tutti i dolci erano pronti. Il pasticcere caricò i pacchi sopra il carretto e partì con Luca nella notte silenziosa. Un meraviglioso profumo di cioccolato si indiffondeva per le strade del paese. Gli abitanti di San Vitale avevano aspettato quel momento con trepidazione ma gli attendeva una brutta sorpresa. La mattina tutti i dolci erano scomparsi. Si radunarono davanti alla pasticceria per chiedere spiegazioni ma il papà di Luca, meravigliato quanto loro, non sapeva che cosa rispondere. Per la prima volta a San Vitale nessuno avrebbe potuto mangiare il dolce di Natale. Luca intanto aveva scoperto delle strane orme nella neve fresca. Luca seguì le orme che andavano da una parte all'altra e infine correvano fuori dal paese fino ad una casa nascosta tra gli alberi, ai margini della foresta. Si guardò un po' intorno. C'era un gran silenzio. Poi provò a bussare ma nessuno rispose. Allora apri la porta. Luca non ebbe neppure il tempo di capire cosa fosse successo perché proprio in quel momento la porta sbattelle su spalle e una figura spaventosa invase la stanza. Era Otto il taglialegna che senza dire una parola afferrò il piccolo intruso e lo rinchiuse dentro una gabbia. Poi si sedette e cominciò a mangiarsi i dolci uno dopo l'altro. Se non fosse stato per il mal di pancia non si sarebbe di certo fermato. «Ai ai, mi sento morire, oh!» Otto si lamentava e piangeva disperato. Luca tirò fuori tutto il suo coraggio e disse «Quando mangio troppo a torta al cioccolato la mamma mi prepara una tisana calda che mi fa stare subito meglio». «Ti prego, preparamela subito», supplicò il taglialegna. Dovette stendersi a letto e bere parecchie tazze di tisana. Quando si sentì meglio Otto confessò a Luca che si sentiva molto solo. Nessuno in paese si ricordava mai di lui e dovette passare tutti i Natali senza amici e senza dolci. «Ecco perché li ho rubati», concluse. Luca ci pensò un po' su, poi gli sussurra qualcosa all'orecchio e i due partirono in fretta verso la pasticceria. Quella notte in pasticceria lavorarono in tre, Luca, suo padre e il taglialegna. Continuarono senza mai fermarsi fino all'alba. La mattina di Natale una nuova sorpresa attendeva gli abitanti di San Vitale. Un profumo irresistibile e una melodia allegra invasero le strade del paese. Incuriositi, tutti accorsero in piazza, dove trovarono un tavolo pieno di dolci, mentre Otto suonava la sua fisarmonica. Tutti ballarono, cantarono e mangiarono dolci fino a sera. Stavano così bene insieme che nessuno aveva più voglia di tornare a casa. Luca diventò l'eroe del paese. Otto non rubò più nemmeno un pasticcino, perché ormai aveva trovato un vero amico. E da quella notte, a San Vitale, nessuno trascorse mai più il Natale da solo. Bene, così si conclude questa nostra storia. Domani vedremo la ricetta di come si fa questo dolce. Ciao!